anche questa è la forma di protesta tanti ai maiali e tirati i maiali, la forma, la giù questo mezzo non ti posso pagare, hai capito? vai, tutto ai maiali guardate i maiali, guardate i maiali il cuore di mezzo a canna Silvio, buon impatto! Sianu, sto aspettando a te vai, vai, giusti in giornata con il motore vai, una non ti puoi di scu, eh oh, a mangiare il cuore di tappi belezza vai, 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 vai vai, 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 vai protestiamo, adio tranquillo che ala brutta, barracca che gioco brutta via deve essere un metro vai, 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 archia in terra, allì